Bentornati raga, qua è Savix che vi parla, oggi vi porto una god mod ragazzi, nuovissima raga, questa god mod non c'è da nessuna parte, penso di essere il primo in Italia, forse anche al mondo Quindi ragazzi, requisiti, ci servirà il com, un amico che ci dà una mano e una tuta da sub e l'oppressor, e basta ragazzi, a questo punto andiamo da qualsiasi negozio di outfit e andiamo a comprare la tuta da sub e la troviamo ragazzi dal bancone, andate su completi e andate a cercare la tuta Una volta che avete comprato la tuta e l'avete indossata ragazzi, dobbiamo andare a baggare la tuta in modo tale che dropperà le bombole Quindi ci dirige a questo punto della mappa ragazzi, andiamo sul nostro stile regà, ci prepariamo su un qualsiasi completo e appena un attimo prima di cadere in acqua, spammiamo il tasto A o X se giocate da play ragazzi Controllate tramite l'organizzazione, facendo sinistra e destra, se vi droppa le bombole, se non vi droppa le bombole, ritornate sullo stile normale, scegliete un completo e prima di cadere in acqua, spammate il tasto A o X Quando uscirete dall'acqua, ritornate sull'organizzazione, andate sullo stile e controllate, facendo sinistra e destra, se vi droppa le bombole Se vi droppa le bombole e ci siamo baggati, possiamo andare a fare questo fantastico grisci ragazzi Quindi una volta che ci siamo baggati e abbiamo chiamato il com, potete farlo adesso, potete farlo anche prima, è indifferente Dovete droppare le bombele dietro il nostro com, come faccio io, aprendo il menu interazione, andando sullo stile ragazzi e switchando sinistra e destra Quindi no e uno stile, no e uno stile, come vedete vi dropperà le bombole Quando avete droppato abbastanza bombole ragazzi, prendete il vostro oppresso regà e saliamo sopra le bombole, come se fosse un veicolo, come se fosse una macchina E' un po' erogioso, nel senso si muoverà tutto ragazzi, ma voi quando siete sopra le bombole, spammate freccia a destra, ok? Intanto vi muovete un pochettino, finché non vi despauneranno le bombole ragazzi Se vi fa entrare all'interno del com non è un problema, riuscite e rimettete le bombole Quindi una volta schiacciate a freccia a destra e disparano le bombole ragazzi, aprite il menu interazione, rimandate al deposito il veicolo, vi allontanate Se no vi buggate se andate nel palino blu e a quel punto fate venire un vostro amico vicino Come potete vedere se stiamo fermi sul palino blu con un nostro amico ragazzi, in alto a sinistra si baggerà la scritta e verrà una barra nera A questo punto noi dobbiamo fare una volta freccia giù e dopo schiacciate A o X se siete da play ragazzi Il risultato sarà che siete in questa schermata nera buggata Adesso io non ho registrato con OBS quindi non vi posso far vedere ma voi dovete partecipare su Anawak ragazzi O comunque sia da qualcuno che sta in mira diversa, accettate il primo messaggio e rifiutate il secondo messaggio ragazzi E sbada bamme regà, saremo in god mod, potremmo chiamarci i veicoli che vogliamo, potremmo fare, cazzo che ci pare Ok, attenzione ragazzi, questa god mod non è come l'altra che vi ho portato qualche giorno fa Con questa potete farvi ammazzare da chi starta cacciatore di teste con il CEO ragazzi Schiacciandovi con i cangiali Quindi ragazzi, spero che il mio video vi piacere Lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix E sbada bamme regà Al prossimo video Buona visione Buona visione Grazie a tutti.